Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg10. L'apertura del telegiornale oggi è dedicata all'operazione di polizia giudiziaria denominata Cobra 67. I particolari in questo servizio, vediamo. La polizia ha eseguito nuove ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Caltanissette a carico di condannati in primo grado nel processo Cobra 67. Un destinentario del provvedimento non è stato ancora rintracciato. Sono tutti accusati di spaccio di droga, attentati ed estorsione. In carcere sono finiti Francesco Fiandaca, condannato a 12 anni di reclusione. Mentre ai domiciliari sono andati Luana Scarlata, sempre condannato a 12 anni di reclusione. Mauno nel Mosca, 16 anni e 7 mesi. Salvatore Sanfilippo, 8 anni. Marianna Ventura, 10 anni di reclusione. Mentre Fabio Celese è stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Caltanissette. Condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione. Claudio Candura, sottoposto all'obbligo di presentazione e l'autorità giudiziaria di firma. E giudici Maurizio e Antonio Giudici sono stati sottoposti anch'essi al divieto di dimora nella provincia di Caltanissette. Il provvedimento è stato emesso dal giudice che ha ravvisato la pericolosità sociale dei condannati. Fiamme alla saracinesca di un caseificio nel cuore del quartiere Scavone. Il rogo si è sviluppato intorno alle 2 della notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. E gli agenti di polizia delle volanti. L'incendio ha danneggiato le saracinesche dell'attività commerciale e l'interno del laboratorio. Non si esclude la pista dolosa. E dalla cronaca alla politica. Giornata difficile quella vissuta ieri al municipio di Gela da mattina a sera. La cronaca in questo servizio. È stata una giornata molto difficile quella di ieri al comune di Gela. Dalla mattina si erano già registrate due proteste. Dalle prime ore avevano occupato infatti Piazza San Francesca e cittadini che occupano le case popolari e che non vogliono lasciarle. Rivendicano il diritto ad una casa e invocano l'intervento del presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta. Momenti di tensione sono stati vissuti quando è stata bloccata la strada antistante Palazzo di Città con le panchine della stessa piazza. Subito dopo alla protesta per le case popolari se ne aggiunge un'altra, arriva il corteo degli studenti. Sono indignati e a gran voce contestano la riforma della buona scuola di Renzi. Non trascorre la giornata che Palazzo di Città è nuovamente teatro di tensioni e proteste. Ieri sera infatti in aula consigliare era prevista la seduta di Question Time. 11 le mozioni da discutere e subito è innescato un dibattito sul pericolo del dimensionamento del distaccamento locale dei vigili del fuoco. In aula il clima non è sereno, ci sono cittadini coinvolti direttamente in emergenze sociali, gli operai ex Tecra, quelli del trasporto disabili, per citarne alcuni. Durante la seduta arriva il colpo di scena dopo molte fibrillazioni interne al Movimento 5 Stelle. Il consigliere comunale grillino Angelo Amato afferma di non sentirsi rappresentato dagli assessori che non sono grillini. Chiedo che vengano mandati subito via, ha dichiarato Amato. State distruggendo il sogno del Movimento 5 Stelle. Si è conclusa così la lunga giornata di ieri a Palazzo di Città, a Gela, tra proteste e polemiche con questioni ancora aperte e tutte da discutere. Nuovi motivi aggiuntivi alla battaglia contro il parco eolico offshore nel Golfo di Gela li ha illustrati ieri mattina nel corso della riunione di coordinamento Nopeos Licata, l'avvocato Stefano Polizzotto, che rappresenta i comuni di Gela, Butera Licata, Palma di Montechiaro, Agrigente e Libero Consorzio di Comuni Agrigentini nel ricorso proposto al Tar del Lazio contro la società mediterranea Wind Offshore, che vorrebbe realizzare il parco eolico a pochi chilometri dalla costa. I nuovi elementi sono legati alla mancata trasmissione per il rilascio del parere di rito alla sovrintendenza del mare di Palermo, competente per lo specchio d'acqua in questione. All'incontro ha preso parte per il Comune di Gela l'assessore Pietro Lorefice. L'amministrazione comunale ha commentato che Lorefice continua a tenere alta l'attenzione per la tutela del proprio territorio e delle bellezze naturali in esso contenute. Non siamo contrari alle fonti di energia rinnovabili, ma queste non possono deturpare le nostre coste o limitare il progetto di rilancio turistico delle città che si affacciano sul Golfo di Gela. Un atto di indirizzo regionale chiaro per rendere il dovuto riconoscimento ai lavoratori colpiti dalle patologie da amianto. Lo hanno chiesto l'amministrazione comunale di Gela e l'osservatorio nazionale sull'amianto ieri a Palazzo dei Normanni nel corso di un'audizione congiunta delle commissioni ambiente e servizi sanitari. All'incontro sulle problematiche delle vittime dell'amianto e dei loro familiari per il Comune di Gela hanno preso parte il sindaco Domenico Messinese e l'assessore al territorio ambiente con delega alle bonifiche Simone Siciliano. Non possiamo continuare a definirci città sfortunata, ha detto il vice sindaco siciliano. Nell'accezione siciliana certi aggettivi vengono usati soltanto come alibi da chi non sa risolvere i problemi. E a Gela, nonostante più di 50 km quadrati tra terra e mare siano siti di interesse nazionale, da 25 anni non si esegue nessuna bonifica rilevante sul territorio continua siciliano. Ed oltre al danno, la beffa di vedere il mancato riconoscimento del contributo amianto per gli anni successivi al 92, come se per legge si potesse d'incanto farlo sparire nel nulla. Eppure nel 2011 l'autorità giudiziaria aveva riscontrato ancora la presenza di quantitativi rilevanti di amianto. Per onore alla concretezza, ha chiesto l'assessore incalzando le commissioni dell'ARS, pretendiamo indicazioni chiare da questa sede. Non c'è un atto di indirizzo dei ministeri dell'ambiente e del lavoro e allo stesso tempo la regione siciliana non ha autorizzato atti equipollenti a quelli ministeriali, pur essendo a statuto speciale. Una presa di posizione chiara è stata invocata anche per l'istituzione del registro dei lavoratori esposti per i piani di censimento amianto e relativi piani di azione per gli interventi di bonifica, la cui mancata approvazione non consente di afferire fondi comunitari per eseguire gli interventi che il territorio attende da decenni. Il presidente della commissione ambiente e territorio all'ARS, Giampiero Trizzino, ha concluso l'audizione annunciando una risoluzione per il completamento urgente dell'ufficio regionale amianto a corto di personale. A breve sarà chiesto un tavolo congiunto tra l'assessorato regionale e il ministero della salute con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali sentiti ieri. Cambiamo ancora argomento. È stato restaurato un prezioso reperto archeologico di Gela questa mattina alla presentazione al Museo archeologico regionale di Gela. C'eravamo anche noi, vediamo. È tornato all'antico splendore il preziosissimo reperto archeologico gelese Calipter Egemon, grazie alla collaborazione del Kivanis Club di Gela che ha sostenuto l'operazione di restauro, e al supporto del responsabile del laboratorio di restauro Riccardo Cassinera. Abbiamo restaurato un pezzo importante del nostro museo. Si tratta di un'antefissa corgonica particolare, perché noi abbiamo tante antefisse corgoniche all'interno del museo, ma questa è un'antefissa corgonica, come dire, Egemon. Egemon nel senso dire che è un Egemon rispetto a tutte le altre antefisse, perché proprio si trovava al colmo dell'edificio, un edificio che doveva essere un edificio monumentale che era all'interno dell'acropole di Gela. Tanto è importante che il British Museum ci ha chiesto questo pezzo, oltre alla testa del cavallo e l'arola, quella delle triade, delle divinità, proprio per fare una mostra a Londra, del periodo che va da aprile a maggio. E proprio per la sua importanza, e grazie proprio al contributo del Chivanese, che con piccole somme, perché è importante il segno che si vuole dare, il senso civico che deve avere questi contributi, per rendere fruibili questi pezzi all'interno del nostro museo. Si tratta di un pezzo che va dal VI al V secolo a.C., più di V che di VI a.C. Il presidente del Chivanese Club di Gela. Noi non trascuriamo mai le vene artistiche e culturali che ci possono essere nel territorio. E avendo avuto la richiesta da parte del direttore del museo, dottore Nioturco, che ringraziamo per averci coinvolti, siamo stati ben lieti di partecipare al restauro di questo pezzo, che come ha detto il direttore, è un pezzo abbastanza importante, e che è stato richiesto anche dal British Museum per la sua esposizione. E questo è importante, secondo me, che i club service collaborano con le strutture territoriali, soprattutto con le strutture archeologiche, perché con la crisi dell'indotto, con la crisi dello stabilimento, il futuro volano di conduzione dell'attività economica e sociale, del territorio e sicuramente il turismo. Si sono svolte sabato scorso presso i locali dell'Istituto Dominozzi di Gela le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della sottosezione unita al Sidi Gela per il quinquennio 2015-2020. È stato riconfermato alla guida della locale sottosezione Giuseppe Fedele, mentre il nuovo consiglio è formato da Biagia Piccione, Giuseppe Damante, Marco Zuppardo, Aldo Farruggia e Caterina Pirre. Nessun taglio alla sanità, così come era stato paventato, è quanto assicurato dall'assessore regionale alla salute, Baldo Gucciardi, e dall'assessore regionale al lavoro, Gianluca Miciche, durante la conferenza dei sindaci della provincia di Caltanissetta, ha svoltasi lunedì a Palermo. Previsto per il 2016 un incremento di 5 milioni di euro del piano spesa per investimenti strutturali a garanzia dei servizi sanitari erogati dall'ASP di Caltanissetta. Tutti i sindaci, scrive in una nota Giovanni Ruvolo, presidente della conferenza dei sindaci della provincia di Caltanissetta, siamo stati uniti e compatti per non arretrare ancora nella qualità dei servizi ai cittadini della provincia di Caltanissetta, ragionando in una logica di comprensorio di area vasta e non quella riduttiva e miope del campanilismo. Rassicurazioni anche sul punto nascite di Mussomeli, sul quale c'è l'impegno ufficiale sulla non chiusura e per il quale si attende la proroga da parte del Ministero della Salute, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Altra questione affrontata durante l'incontro con i sindaci della provincia è stata quella della stabilizzazione dei 250 precari di cui si sta occupando l'assessore a lavoro Miccichè. Durante la riunione fatta ieri con l'assessore Guciardi è emersa finalmente una verità storica, che non solo la nostra provincia non subirà alcun taglio di risorse sul personale. e quindi smendiamo le false notizie regolate in questi giorni su addirittura i licenziamenti dei medici o la vicenda sui precari. Ma in più per il 2016 avremo 5 milioni di euro in più per l'interstituzione della rete ospedaliere, quindi migramento delle parti, acquisto nuovi macchinari, eccetera. Una promessa che aveva fatto e che dunque è stata mantenuta? Più che una promessa fatta è un nostro dovere difendere l'istituzione e difendere la nostra provincia. Stane fatti il mio impegno e la mia presenza nel governo dà ancora più sostegno alla nostra provincia. Insieme a questo risultato c'è anche l'impegno da parte dell'assessorato e della direzione a dare un impulso alla sanità in tutta la provincia. Dal mantenimento del punto di nascita di Mussomeli al fondo soccorso di Mazzarino, all'ultimo di Gela, al potenziamento dell'ospedale, al completamento delle parti dell'ospedale di Calcini 7 e quant'altro. Quindi ogni tanto buone notizie. Sarà presentato il prossimo venerdì 20 novembre alle 16.30 a Gela presso la libreria di Felicia Randazzo in Via Parioli il libro dello chef stellato Pino Cuttaia per le scale di Sicilia. L'evento è organizzato dalla delegazione di Gela dell'Accademia Italiana della Cucina preseduta da Concetta Battaglia. Cuttaia converserà con Francesco Pira, docente di comunicazione all'Università di Messina che coordina l'evento. Interverranno Mario Ursino, vicepresidente, e Ugo Serra, rispettivamente vicepresidente e coordinatore territoriale della Sicilia orientale dell'Accademia Italiana della Cucina. Bene, ci fermiamo. Questa era la prima parte del nostro telegiornale. Adesso linea alla regia per la pubblicità. Tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Sarà presentato sabato 21 novembre prossimo alle 18.30 nei locali Mondadori Store di Via Marconi al numero 25 a Gela. Il libro di Domenico Veneziano, una sofisticata e meravigliosa apparecchiatura. Saranno presenti lo stesso autore, Daniela Di Marco, naturopata. No ai sterili attacchi, bisogna lavorare in sinergia per potenziare una grande realtà. Così il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Giovanni Di Polito, difende il corso di laurea in medicina e chirurgia. Alcuni disservizi non oscurano la professionalità, aggiunge Di Polito, intervenendo in merito alle dichiarazioni sul malfunzionamento del corso di laurea e ipatia, distaccato al Consorzio Universitario Nisseno e dipendente dell'Università di Palermo, espresse dal deputato regionale del PD, Mario Alloro, in una nota all'indomani del sequestro da parte della Guardia di Finanza dei Locali di Medicina a Enna. È una posizione ferma, non solo da presidente dell'Ordine dei Medici, ma anche da chirurgo, perché so bene che il corso di laurea in medicina e chirurgia della sede di staccata di Caltanissette è un corso validissimo, non solo per l'ottima preparazione dei docenti coordinati dalla professoressa Italia Di Liegro, ma anche per l'assoluto feedback positivo che i ragazzi, gli studenti hanno sia con i docenti che con noi medici ospedalieri e con i medici di medicina generale che frequentano, quindi hanno una preparazione, direi, medio-alta già di base, e quindi gli attacchi sterili e assolutamente preconcetti da parte di personaggi che tra l'altro non hanno nulla a che vedere con l'università e quindi non hanno contezza di ciò che sia la preparazione dei ragazzi, mi è sembrata superflua, inutile, dannosa anche per il nostro territorio. Noi ci siamo laureati, sappiamo che problemi avevamo, ma sono problemi solo e esclusivamente logistici che con la sinergia delle istituzioni, tutte quante, compresa anche quella dell'ordine dei medici, ma io parlo soprattutto di consorzio universitario, parlo di CEF, parlo di università, parlo di amministrazione comunale, la sinergia di tutti questi enti può far sì che i ragazzi migliorino anche da un punto di vista qualitativo la loro vita extra-universitaria nella nostra città. Poi alcuni miglioramenti vanno fatti anche a livello proprio, diciamo, didattico, sicuramente perché tutto è migliorabile, però sicuramente abbiamo una partenza buona, buonissima, e quindi possiamo solo andare a migliorare sempre di più. Partirà venerdì 20 novembre la prima fase del progetto Elliot 4, promosso e organizzato dal Centro Giovanile Musica e Arte CESMA per il 14esimo anno sociale consecutivo. Il gruppo giovanile della parrocchia Regina Pacis propone alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Gele e del comprensorio lo studio di un'opera musicale che anticipa la visione dal vivo dello spettacolo. Quest'anno il musical al centro del progetto è Cazza, arrivato alla sua quarta edizione. Gli spettacoli si terranno al Teatro Comunale Eschilo nei giorni 20, 21, 26 e 27 novembre alle 10.30. Già 1.200 circa le presenze previste nel corso delle quattro repliche. Da quest'anno il CESMA, attraverso i suoi spettacoli rivolti alle scuole, sosterrà il progetto della Piccola Casa della Divina Misericordia. La realtà sorta a Gela da qualche anno che ha come obiettivo, tra gli altri, il sostentamento di una mensa quotidiana nei locali dell'ex orfanotrofio Regina Margherita. Prenderà il via il 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro, mentre il singolo spettacolo 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. La Cassa Forense è oggi i nuovi regolamenti dei contributi e dell'assistenza. Si tratta del tema del convegno promosso dalla Cassa Forense, Ordine degli Avvocati di Gela e Comitato Pari Opportunità degli Avvocati. Appuntamento previsto per oggi alle 15 nell'Aula Conferenze Avvocato Moscato del Tribunale. Si terrà sabato 21 novembre alle 20.30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il musical The Wits di Charlie Small che sarà portato in scena dal Centro Giovanile Musica e Arte Cesma. Il biglietto di ingresso sarà fornito a chi porterà nella chiesa Regina Pacis nella piccola Casa della Misericordia dal 15 al 21 novembre la spesa per chi è povero. Un unico vero potere, servire gli altri nella solidarietà è il tema del nuovo anno sociale 2015-2016 dell'Associazione Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo presieduta da Andrea Cassisi. L'apertura ufficiale si terrà sabato 21 novembre alle 19 con una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana presso la parrocchia San Rocco. Alla Santa Messa presenzieranno tra gli altri autorità civili e religiose e gli iscritti e i soci del Centro Culturale. Il Sor Optimist Club di Gela in collaborazione con l'Istituto Culturale di Sicilia per la Cinematografia Onlus organizza in occasione dei 120 anni del cinematografo un seminario di storia del film tenuto dal regista Gianni Virgadaul al fine di promuovere la cultura e di offrire alla città un corso che può aggiovare a chi intende intraprendere o approfondire studi che riguardano il cinema e in genere la comunicazione. Il corso si svolgerà a Gela dal 23 al 27 novembre dalle 16.30 alle 18.30 presse il Museo del Cinema che sorge nei locali del Palazzo Pignatelli. Al via la 81esima stagione concertistica gelese con la musica classica e lirica organizzata dall'Associazione Amici della Musica Navarra diretta dal maestro Crocifisso Ragona. Il concerto inaugurale della stagione si terrà in occasione della festa di Santa Cecilia appuntamento domenica 22 novembre prossimo alle 19.00 presso Palazzo Pignatelli a Gela con il mezzo soprano Giuliana Consiglio e Angelo Zarbo al pianoforte. È Andrea Caruso della DVS Fidas Catania il nuovo coordinatore regionale dei giovani Fidas Sicilia e sarà coadiuvato nel suo ruolo da Federica Di Bartolo della Fidas Adas di Gela e da Alessio Limuti della Fidas di Caltanissetta. La nomine è arrivata al termine di un incontro tra i giovani delle federate siciliane che si è svolto nella sede dell'Adas di Gela preseduta da Enzo Emanuello. Siamo allo sport parteciperà anche Antonio Tallarita maratoneta gelese alla 48 ore no stop che si terrà ad Oslo questo venerdì. Una competizione internazionale con atleti che provengono da ogni parte del mondo e che gareggeranno al Bislett Stadion nella capitale norvegese. Tallarita da diversi anni ormai vive a Reggio Emilia e porterà la maglia della Green Sport Gela associazione che è preseduta da Peppe Veletti. L'atleta gelese vanta un curriculum davvero di tutto rispetto. Nel 2015 si è giudicato i campionati italiani 24 ore su pista a Padova i campionati italiani Master 24 ore su strada a Potenza i campionati italiani di categoria su pista a Verone e infine i campionati di categoria su strada a Reggio Emilia successi che naturalmente lo hanno portato nell'elite dell'atletica italiana. Concludiamo questa edizione del nostro telegiornale con il teatro. Comincerà stasera la stagione teatrale al Cineteatro Antidoto di Macchitella. La compagnia Antidoto si esibirà in Abriscola due per due si tratta di due atti di Tiziana Guarneri appuntamento alle 21.30 lo spettacolo sarà proposto anche domani sempre alla stessa ora. Bene con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui vi ricordo che notizie e servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è costantemente aggiornato grazie per aver scelto la nostra informazione arrivederci grazie per aver guardato